Il quadrilatero d'oro di Bustarsizio si trova tra il rione San Michele e l'area delle Nord. E' qui che sta succedendo qualcosa di importante, non inaspettato, ma comunque silenzioso, perché senza tanto clamore si stanno davvero verificando delle variazioni urbanistiche rilevanti. E' il caso del Campus Reti, società di tecnologia con centinaia di ragazzi affiliati che in poco tempo ha preso possesso dei fabbricati di via Mazzini e li ha trasformati in luoghi ad altissima tecnologia e innovazione. Poi, non distante dal teatro, c'è l'altra grande area, quella delle Nord, dove dovrebbe nascere la cittadella universitaria con larga parte residenziale. E non distante in via Concordia, ecco il progetto di edificazione di tre palazzi con 112 appartamenti votati all'alta tecnologia. in questa zona, che magari fa meno notizia di altre, che la busta del futuro sta nascendo.